Sarà vietato uscire per fare passeggiate o attività sportive. Si potrà uscire solo per le necessità previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero motivi sanitari, approvvigionarci di cibo oppure recarsi al lavoro. I sindaci dovranno chiudere tutte quelle aree che sono elementi di aggregazione di più persone, come per esempio i parchi. Inoltre, nella giornata di domenica, sarà fatto divieto di aprire per qualsiasi esercizio commerciale, alimentari compresi, quindi domenica non sarà possibile fare la spesa. Sarà un'eccezione soltanto per le farmacie, le parafarmacie e le vicole. Infine, sarà fatto divieto, in tutti i giorni della settimana, di entrare negli esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, come per esempio i supermercati, per più di una persona per famiglia. C'è solamente l'eccezione per chi assiste persone non autosufficienti, oppure ha dei bambini a carico che non può ovviamente lasciare da soli. È importante rispettare le regole. Se tutti non ci impegniamo, il virus non si ferma e la vita normale non potrà tornare ad essere presente nel nostro territorio.